Dopo questa serie di fotografie che sono state proiettate, vediamo un'ennesima fotografia. Tutti voi di spalle. L'incontro è arrivato su richiesta del teatro di San Carlo, fare una campagna immagine per un teatro non è una cosa di tutti i giorni, credo che sia raramente, io non ho mai visto un teatro commissionare una campagna immagine a un fotografo, l'incontro col teatro è stato principalmente da subito l'incontro con le persone che lavorano al teatro, basta, è stato un amore a prima vista, l'energia, i sorrisi, l'intensità degli sguardi delle persone che io ho conosciuto in questo teatro non hanno uguali in tutto il mondo in cui ho lavorato ed è tanto. Qui c'è la volontà di costruire qualche cosa che aiuta a ritrovare la missione di questo teatro, una missione per questa città ma anche una missione per il mondo. Quando mi hanno detto che appunto lo slogan della campagna sarebbe stato non guardare da lontano entra, io l'ho tradotto subito con una frase che dico io spesso, non ti lamentare fai, il teatro fa o vuole fare di se stesso un coagulo di gente che vuole fare, che vuole guardare avanti e che non vuole stare a lamentarsi e questo è il bello di questo teatro, cioè che porta insieme affinità, persone che la pensano nello stesso modo, che vogliono divertendosi dare un contributo a uno sguardo in avanti, a lavorare insieme agli artisti del teatro, a far parte di quell'energia, a formare quell'energia per guardare a un futuro in un momento in cui nessuno sa più alzare lo sguardo. Grazie. Ok, grazie a tutti e grazie, grazie a tutti.